musica 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 andiamo a treyardare con il vincolo giovedì venerdì e sabato prossimo piove ma non ci voglio credere veramente tu sei in vacanza pago giusto e la piove infatti ma solo la tatea oppure in tutta italia come diceva non lo so ho visto che l'avamo che cazzo lo so sento in tutta fin basilicata pago ricordati allora l'anno scorso non mi ricordo l'anno scorso due anni fa che il mio padre era così positivo l'anno scorso eh l'anno scorso diceva che ci stava sole invece ha piovuto proprio tanto tanto l'anno scorso c'è no al contrario dicevo al contrario scusa cioè doveva piovere e invece ha fatto il sole ha fatto il buon sole ha fatto il buon sole invece no vabbè no stavo a dire la cazzata faccio perso stavo a dire non può essere anche cazzo il contrario no no scusa poco ne ho detto ehhh pago tetrix o da no ok chiudono come che sono arrivato da solo non ho capito io ho già le specie comunque si ma rogo tu scende ogni volta da solo comunque pure l'altra volta prima eravamo scesi io e leo qua dove ci sono la da solo ma che cazzo non lo so mi scusi devi scendere con gli altri non da solo senta ora c'era qualcuno pure da solo che morivi non fa niente roppucà hai fatto delle armi? c'è vago terpex eh com'era il fatto delle armi qua quali sono le armi più consiglianti guardate quante cure eh c'è ne so io gioco da tutto vabbè basta tu qua vabbè me ne vado vabbè me ne vado vabbè me ne vado vabbè me ne vado io ho quattro splash se vi interessano io ho queste qua cosa le sai usate cosa? una pistola queste queste o queste ci stanno pure se potete se sapete che servono le narine se le volete usate ma prima avete venito perso l'avete fatto prima no quanto il secondo posto non ce l'ho io credere ehm try harder try harder assoluti no? no no porto le bombe ballerine sì sì papo eh sono buone poi se dovrò che di qualche altra cura porta le cure qua sono un punto delle mani verde scusate questa qua è solo uno shieldino questo? sì uno shield io lo faccio ai io lo faccio ai che mi senti tanto bene nice già stai full? sì sì ma qua le mie 500 farei la full cazzate 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 dai sono troppo forte io questo come no qua c'è una posta da 50 chi se la voleva fare da queste due? ehm me la faccio io questa con meno shield penso me la faccio io? allora falla per me faccio uno shieldino questa io con meno shield vabbè capito arrivo con alcune un shieldino qua due cazzate però lancio per di là oh ok un altro shieldone ehm no lo shieldino me lo faccio dici per arrivare full però no ah non dovrei fare quella stessa cazzate ok qualcuno sta portando splash per caso sì vado ho detto c'è 4 splash vieni qua da me che ne c'entra un altra due però vado se no vedo che perdi il ping pago resta nelle vicinanze arrivo subito sto facendo un po' di materiale Io ho 6 shieldini c'ho Qua ci sono shieldini Io ce ne ho già sei una slot libera, non so se devo mettere altri 3 però che devo fare con 9 shieldini Io sono altri solo di 3 gemmi Altri 3? Si Ma qua Ma cazzo mi sono 6 shieldini 3 indicati qua Ma questo si chiama FallGuy8285 Ma dai Secondo voi non è uscito a questa nuova season, FallGuy diventa era morente? Non nemmeno No No Altro che morente FallGuy Ma per meglio mi sentivo dove stavano gli altri shieldini qua? Eh sopra stavano No se a questa casa dove sto io più avanti? Eh quella la dove faco, sopra l'interrazione No 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 Ok questi qua si, quelli che mi avevi pingato tu Non ti ricordi vabbè Mi cerco un attimo se li trovo bene il normale Mi vengono se li vengo a pia io vieni Ok altre due bomba qua le porto due io No 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 le porto io Pago che faccio? Lascio 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 le cose la Le Le ballerine Pago le porto io c'ho una slot libera Al posto di 9 shieldini porto 6 shieldini in 2 splash a sto punto Magari che ne troviamo altri Ne altro che cure Hanno messo di nuovo pure le cose salterine la le Le trappole che saltano L'avevo mettiamo Non mi viene in mente Niente Pago non risponde Ti devo dire E io che cazzo non lo so, ti ho detto Lasciamo le splash e le splash Intanto muore il primo quindi fai come vuoi tu Oh vacca caro guarda ma mi vado a suicidare veramente Se sta cosa sarei non conviene niente Vabbè vabbè A terra deve andare a finire e la rimane non ti preoccupare Quello Pago che fa che porto 6 shieldini Sette 6 shieldini Le porto i nemici quindi che cazzo vuoi La stessa cosa io penso Proprio altro perchè la gente che ci sta qua Ma qua non ci sta nessuno, sono con gli scarsi Dici? Sì In arena siamo a fa giusto no? Sì E perchè dovrebbero sta gente scarsa? Perché siamo a 200 punti Ah poi stare a 200 punti ok Sette 0 quindi nice 3.000, 4.000 No 202 Beh Vabbè 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 che ne sai Vabbè Vabbè che ne sai Vabbè che becchi pro player di 200 punti che ne sai Usiamo scherzi noi se poi moriamo da quelli di 200 punti No quelli forti già saranno Al minimo 2.000 punti Per questa materiale se lo volete Io sono full di tutto quindi No la pistola verde scusate Altri shielding ma se volete Io ho bisogno solo di farmi ferro appena possibile Va là c'è dove abbiamo pingato il materiale Là è tutto ferro A 300 metri? Sì Sì Ah ok Non vedo la cosa Sop 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 c'ho le cose, dalle M, dalle M ne ho otto a questo punto se c'è due slot liberi pago che non è meglio portarne il massimo come cazzo gioco con due slot liberi che c'ha? Assalto? io c'ho pompa assalto e mitraglietta giusto per però se è capace che se trovo un'altra cosa, un'altra cura e la devo prendere se la prendo gioco solo con pompa e assalto credo non è proprio il massimo, sarebbe pompa mitraglietta al top sto giocando normale, in ultimi due slot c'ho 6 cose da una parte c'è lo 100 di legno qua in più se non siete full ma ormai vieni qua da me che ti do queste cose e vieni, stavo al cecchino non vai sti cazzo, che porto da mamma il cecchino c'è chi non deve star là che gioca praticamente c'è uno con la... sta gente con la macchina no no, sti chiamano che stanno... da sotto stanno da sotto, stanno, stanno distanti lasciali stare, lasciali stare, sono soli si si sto salendo, sto salendo ma qua? cos'è? pago c'è gente, tu gli vai incontro, intelligente dove cazzo è gente? no, risponde un fortino davanti dove è gente ma che cazzo sono da sotto? ma che cazzo sono da sotto? quello è lanciato tu quello là? no, non l'ho lanciato niente io ma che c'è una persona là, se no ho sbaglio eh, si ma che cazzo sono da sotto? sta là, sta là lascia, sta, non fai... no, stava reale no, però ho sparato in corpo, non mi sembra la tua arrivata torna indietro, torna indietro dobbiamo prenderci la top dobbiamo prendersi la top no, un testo di grigio vabbè vaco, io c'ho un... pompa del nonno blu a R bianco mi daria detto a bianca no, hai chiedi perchè ho preferito la R bianco e il pompa a blu però vabbè, nice qualcuno può dare colpi pompa, ne ho 17 no, io sono a 25 no, neanche cosa farei con 20 colpi pompa? io sono a 25 si trovi in mezzo al spazio, rimani senza colpi come ho fatto io l'altra volta, ti ricordi pago, ho 10 colpi ma stai a droppa dove arriva per curiosità? è quello ho buggato ah, è sempre ho buggato, ok, eccolo comunque attenzione pago, perchè prima la macchina stava di là, sotto alla strada non so dove sono andati, può essere andati pure qua dentro se la mantieni oh, splash ma qualcuno sa che uno colpi cattini nello stato eh no, pure no mi devo solo mettere a fare un altro poco poco di ferro mi metti da solo questa agente fuori da me si si arriviamo ma già siamo da te? va sotto la agente ah capito, sotto la spiaggia vè? no hm un pezzo full di tutto perfetto bello di ore eccoci, eccoci non non c'è nessuno che cazano damn no no da lì bello e lì Come è andato io? Eh da me mi ha pushato questa Tutti col combat Vabbè la top almeno abbiamo visto Tutti col combat stanno Vabbè A me un colpo ci mette tre anni A ricaricarsi Vabbè 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 себя Sontro Vabbè Vabbè Ah! Quanto stanno sedentici persone più che altro? Sì. dopo di queste vogliamo che la continuiamo su fortemente a squad oppure andiamo su full dice qualche altro gioco come volete voi io ascolto qua vedete voi un po' Grazie a tutti 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 Non so se è fanato Ma pure il jump hanno tolto? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti